Sette segni che una relazione superficiale, ciao sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta e sono qui su Youtube perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può arrivare a tutti. Oggi parliamo di relazioni in particolare, di relazioni superficiali, perché c'è del superficiale e del profondo all'interno delle relazioni. Il profondo è tutto ciò che permette ai coniugi di toccare le profondità, le ombre, il bello e il brutto, il piacevole e lo spiacevole. La superficialità è tutto ciò che ci permette di stare in una relazione in modo non individuativo, ovvero che non mi permette di crescere, che sto lì fermo, tipo comfort zone, bello, comodo, fantastico, ma non serve un cazzo nella vita, perché una vera relazione, un vero amore deve fungere da moto, da motore, da rivoluzione interiore, da sommovimento dell'anima, da cambiamento, da opportunità di vita. E se non lo fa, non è un vero amore. La potete avere una relazione così, ma sappiate che non è vero amore, non è una relazione vera, ma superficiale. Vediamo quali sono i sette segni di una relazione superficiale. No litigio, classico, ne lo dico sempre, non litigate in una relazione superficiale, perché soltanto attraverso il litigio c'è un incontro di ombre. E come affermava Jung, se non si incontrano le ombre, non si incontrano veramente le due anime delle persone, e quindi non c'è un incontro chimico, non c'è un incontro profondo, non c'è un incontro delle parti più subdore della psiche. E quindi se rimane sulla superficie, lo potete fare, ripeto, liberi di fare ciò che volete. Ma non è una relazione profonda. Si è liberi, ma in questa libertà bisogna essere consapevoli di ciò che si fa. Amore. Che cos'è l'amore? Avete mai chiesto al vostro partner che cos'è per te l'amore? Perché spesso nelle relazioni si dice ti amo, ti amo. Però noi non sappiamo cosa intende l'altro per amore. E qui iniziano i primi problemi, i primi fraintendimenti, le prime superficialità. Perché se io non so che cos'è per me l'amore, e per l'altro l'amore, ma dico ti amo, l'altro mi dice ti amo, e non lo so, ci proietto su qualcosa, fraintendimento. Do per scontato qualcosa, superficialità. Per me l'amore è sesso. Ok. Non lo sapevo. Quindi quando ci diciamo, diciamo, sesso. Per me l'amore è condivisione. Ok. Quando ci diciamo ti sto dicendo semplicemente che vuole condividere con te. Ma l'amore non è solo quello. Quindi è importante chiedere all'altro che cos'è per te l'amore. E chiederlo a noi stessi. Condividere questo pensiero. Interessi e passioni. All'altro stesso modo, se non sai quali sono gli interessi e passioni dell'altro, è superficiale la questione. Se non sostieni gli interessi e le passioni dell'altro, è una relazione superficiale. La puoi avere, ma è superficiale. Dare per scontato. Se dai per scontato chi è l'altro, cos'è l'altro, se non fai domande. La relazione è superficiale. Quando non ci sono domande all'interno della relazione, non si scende nelle profondità dell'anime. E quindi la relazione è inconsistente. Non ci si conosce. E siccome la relazione è uno dei mezzi più potenti attraverso i quali ci possiamo conoscere, se non ci sono quelle domande, se non c'è questo aspetto di andare ad approfondire veramente ciò che è, è superficiale. E non serve all'individuazione. Controllo-manipolazione. Spesso nelle relazioni c'è questa duplice faccia della stessa medaglia. Ce l'ho fatto. Del controllo-manipolazione. A me ha controllato, a me ha controllato. Controllo-manipolazione. Controllo-manipolazione. Chi manipola dice che l'altro controlla, chi controlla dice che l'altro manipola. E' un circolo virtuoso di merda, vizioso, da cui non se ne esce fuori. E se c'è questo rimpallo di accuse, significa che c'è superficialità. Perché non si va a vedere cosa c'è dentro veramente quel controllo e quella manipolazione. Perché se io vado a vedere, a esplorare dentro queste dinamiche così importanti e comuni a tutti, a tutti, non c'è nessuno di noi che non controlla e non manipola. Nessuno. Quindi se lo uso semplicemente per accusare l'altro, significa che la relazione è superficiale. E a volte non si può entrare dentro. Più di un tot. Non ce la si può fare. Perché siamo troppo diversi. Perché entrare troppo dentro l'altro, vedo lo schifo e io lo schifo dell'altro, non lo voglio vedere, lo voglio idealizzare. Superficialità. Problemi circolari, punto 6. Se c'è sempre lo stesso problema all'interno della relazione per anni, 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 anni. Anche di questo ne ho parlato tanto anche nel mio libro Il vero amore non è un mito. Se ci sono questi problemi circolari, significa che la relazione è superficiale perché il problema rimane là, che è strumentarizzato per rimanere fuori dalla relazione, fuori dall'inconscio della coppia e dall'inconscio individuale, e non entrare mai in profondità. Perché ogni volta che si cerca di entrare in profondità, ecco il problema circolare, che torna sempre allo stesso modo, sempre per non permettervi di scendere giù, giù, dove c'è veramente la relazione. E infine, non sai il perché. Ci sono delle cose che non vanno, ma non sai perché. L'altro ti fa delle cose, ma non sai perché. Ma perché? Non me lo merito. Perché succede questo? Perché proprio a me? Perché l'ha fatto proprio a me? Più non sappiamo, più non abbiamo coscienza e consapevolezza delle dinamiche relazionali e dell'altro e di me nella relazione, non lo so perché l'ho fatto. Ma perché? Non me lo aspettavo. Non me lo sarei mai aspettato a me. Noi, non farei mai quello. Noi, l'altro non lo farebbe mai. E poi accade, se non c'è questa consapevolezza, la relazione è superficiale. Se, così sono i sette segni, se ti è venuta voglia di relazionarti in modo superficiale, perché no, una botte via, metti un like, iscriviti al canale, e... metti un like, iscriviti al canale, condividi il video con la tua botte via, e accendi il campanino, e non partiti i prossimi video. Ciao! Ho comprato un nuovo reggi fotocamera, cellulare, cose, quindi... boff! Ciao!